buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento un'introvabile audi a3 1.8 tfsi turbo benzina da 132 kilowatt 184 cavalli vettura immatricolata nell'anno 2013 è un tre porte con doppio pacchetto s line quindi sia interno che esterno full di tutto con soli 84 mila chilometri percorsi e mai incidentata abbiamo sensori di parcheggio anteriore e posteriori luci diurne led e fari xeno ruota in lega da 18 pollici diamantate vetratura posteriore oscurata tetto panoramico in cristallo apribile elettricamente specchi abbattibili elettricamente ecco gli interni sportivi in pelle di nappa e logo s line nello schienale volante mozzato s line tre razze multifunzione sportivo con pedal per il cambio estronic cruise control e adaptive cruise control vi mostro ecco il chilometraggio 84.149 il prossimo service va fatto entro 24.000 chilometri e 496 giorni abbiamo il sistema di navigazione satellitare cartografico originale start e stop audi dry select sedili anteriori riscaldabili elettricamente clima automatico bizona sistema di messa in moto keyless naturalmente bluetooth ecco le impunture a contrasto sulla pelle vi mostro anche il sedile posteriore vettura naturalmente in ottimo stato ecco il tetto apribile con la possibilità di essere oscurato anche con la tendina questa vettura è disponibile in pronta consegna viene garantita 12 mesi con la possibilità di estensione vi aspetto gussago presso il nostro autosalone pasolini auto per vederla provarla ed eventualmente acquistarla grazie